Benvenuti amici di Marcosbox e ben ritrovati nell'appuntamento settimanale o quasi, visto che la scorsa settimana c'è stato un piccolo salto del riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici come vi dicevo in apertura la scorsa settimana ho avuto da fare e quindi non sono riuscito ad organizzare il solito video e il solito riassunto anche questa settimana, visto che sono 25 argomenti, mi sono tenuto, diciamo, stretto, non ho postato tante notizie questa settimana visto che sono tanti gli argomenti ho preferito di fare un video all the style con soltanto un piccolo accenno per evitare di agungare troppo il video che so che i video lunghi non vi piacciono anche se so che alla fine questo video verrà di mezz'ora e quindi peggiorerò le cose Comunque, cominciamo, cominciamo con le prime notizie e le prime notizie, beh, come ben sapete, nelle scorse settimane c'è stato il Mobile World Congress sono stati presentati diversi, diversi terminali abbiamo avuto modo di vedere lo ZTE OpenC con Firefox OS 1.3 The Verge ha pubblicato un interessante video abbiamo visto la nuova gamma Nokia equipaggiata con una versione modificata di Android una versione custom personalizzata, fortemente personalizzata device che a detta di chili approvati sono comunque ben fatti e a detta di alcuni analisi possono riuscire ad imporsi nella fascia bassa perché il binomio Nokia Android con prezzo basso può far concorrenza a molti terminali di origine asiatica che abbiamo sul mercato sembra il Mobile World Congress Samsung ha presentato un video, cioè una preview di un terminale equipaggiato con Tizen i lavori quindi di Samsung procedono anche se non è ancora stata data una roadmap di pubblicazione effettiva dei terminali comunque dei terminali il sistema operativo sembra ben fatto anche se alcuni potrebbero dire che non è altro che una specie di touchwiz appiccicata su un sistema normale a me piace c'è stato poi il grande arrivo di Canonical con Ubuntu Phone e sono stati presentati due terminali equipaggiati con Ubuntu diciamo che la stampa italiana non è che è stata tanto attenta a questi due terminali non ci sono stati tanti video di approfondimento segno che non è che gliene freghi poi tanto agli addetti al settore della telefonia comunque sono stati avvistati due i Meizu MX3 e il BQ Aquakis c'è stato anche un carino video di Hanson del Meizu MX3 sono dei bei terminali vedremo a quanto verranno messi in commercio e a che punto sarà il sistema operativo quando saranno commercializzati questa settimana c'è stata un guest post un guest post di un autore che probabilmente vedremo in pianta stabile nelle prossime settimane, nei prossimi mesi Gianmarco Di Guerra, mio concittadino, che ha realizzato una piccola recensione scritta dell'Arcatec One Touch Fire con Firefox OS nella sua recensione praticamente lui ha acquistato appunto questo device che in Italia è commercializzato attualmente da Tim da notare che la versione che a lui è stata modificata da lui stesso perché praticamente ha la versione 1.3 di Firefox OS comunque andatevi a leggere la recensione ditemi che cosa ve ne pare passiamo adesso ai rilasci della settimana sono state rilasciate le nuove ISO di Linux Mint, Debian edizione sia Cinnamon che Mate queste nuove ISO che cosa hanno di particolare? nulla praticamente si tratta di nuove ISO generate che hanno già incluso l'ultima versione di Cinnamon Cinnamon 2.0 nella versione con Mate, Mate 1.6 e tutti quanti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i tool di casa Linux Mint e ho provata in questi giorni Linux Mint versione Debian Edition, versione Cinnamon lo giudico stabile ben fatta, da tonde, è Debian però è noiosa funziona tutto non ci sono blocchi quindi fa un brutto effetto per chi è abituato a smanettare a fare dire in settimana è stata rilasciata anche la nuova versione di la nuova ISO perché anche in questo caso visto che è la natura di questa distro e sono state rilasciate la nuova ISO di Manjaro 0.8.9 nelle tre versioni XFSE, KDE e Openbox che sono le edizioni ufficiali che cosa troviamo? nelle versioni con KDE abbiamo l'ultima versione di KDE KDE 4.12 nella versione con i XFSE abbiamo la versione 4.11 sempre più pacchetti sono stati portati a questa versione novità sia della versione con KDE che della versione con Openbox che hanno di serie questo nuovo tool TurboLens che serve per personalizzare l'aspetto del sistema della distro non appena finita di installarla ovviamente sono state rilasciate anche le derivate con gli altri ambienti cambiamenti sostanziali diciamo che adesso l'installer è stato migliorato è stato migliorato il supporto a UEFI e cose del genere quindi alla fine contenti chi ha questo tipo di sistema che potranno meglio provare da segnalare comunque la versione di Manjaro la Netbook Edition che è una versione modificata come potete leggere dal post adatta ai Netbook Ubuntu ha rilasciato le Beta 1 versione Beta 1 di Ubuntu 14.04 cioè delle derivate di Ubuntu 14.04 anche in questo caso non è che ci sono tante novità su Ubuntu troviamo ragionamento a KDE 4.12.2 la presenza di Firefox come browser predefinito la nuova versione di Moon Discover che non è che è tanto 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 ben fatta vabbè non è che lo amo particolarmente questo tool e che c'è più nuova versione di KDE Instant Messaging nuova versione di Plasma Network Manager KDE Connect adesso è presente nel repository nella versione 0.5 nuove notifiche di sistema giusto qualche è più vabbè i due tool che vi avevo anticipato nelle scorse settimane che è per la gestione del touchpad dei driver dei driver proprietari XFSA non è che porta tanti miglioramenti è soltanto un aggiornamento di XFSA alla versione 4.11 è diciamo così la novità più grande di questo di questo rilascio della versione di Xubuntu è la presenza di Whisker Menu come lanciatore applicazioni predefinito che sarebbe quel lanciatore di cui vi ho parlato tanto tempo fa che è molto apprezzato dagli utenti XFSA presente come lanciatore predefinito anche su alt ed istro come per esempio Mangiaro che è più carino offre più possibilità di ricerca delle applicazioni cosa del genere è più bello e più vabbè qualche altra cosa come la sostituzione di menu Weaver posso dire la carta ma sono comunque cose che l'utente non nota la versione con Gnome porta Gnome Shell 3.10 molte applicazioni sono state aggiornate e basta così la versione con Ubuntu anche in questo caso l'unica cosa che porta di nuovo una nuova la nuova versione di Pacman File Manager PCman scusate File Manager che pacman nel videogioco Firefox come può essere predefinito e vabbè è già stato aggiornato l'artwork della distro quindi non è che ci sta tanta tanta roba sempre restando in ambito distribuzioni sta per arrivare una nuova distribuzione direte voi che palle però comunque è una distribuzione che ha comunque un suo senso e il team che realizza Numix intanto apprezzato tema che va dalle icone il tema GTK il tema Pugnome Shell anche uno schema di colore per KDA quindi diciamo una famiglia allargata quella di Numix i creatori di Numix in collaborazione con Nitrux quelli che anche in questo caso realizzano temi di icone e cose del genere realizzeranno una nuova distribuzione il cui nome non è ancora certo basata su su Gnome Shell praticamente è una versione customizzata con un ambiente un po' diverso presenza di steam preinstallato cose del genere che ci sarà una doc una doc inferiore il lancio di applicazioni fullscreen che ci sono vabbè un nuovo centro notifiche cose del genere potete comunque vedere nel post con l'annuncio ufficiale realizzato da Power Rotor dove potete vedere appunto tutte quante le novità le feature di questa distro se ne era già parlate di questa distro in passato quando il team aveva annunciato una specie di collab con Ikei l'autore di SOS e adesso l'autore del nuovo ambiente che ora mi sfugge il nome che adesso mi picchierà Ikei vabbè comunque si era già parlato appunto di questo tentativo di questa distro poi alla fine non è che è andato in porto per fortuna adesso è stato ripreso piace a molti piace questo nuovo look andiamo nel mondo dei desktop GNOME ha rinviato il supporto a Wigan GNOME 3.12 che vedremo fra qualche giorno a marzo non avrà il supporto a Wigan il supporto ufficiale sarà disponibile ancora in questo caso come una preview questo perché nelle scorse settimane il tempo stringeva c'è stato il freeze del codice c'erano ancora molte cose da sistemare quindi si è preferito offrire un ambiente più stabile quindi non non buttarlo così tanto tanto per tanto per la fretta di buttarlo da un mondo KDE invece arriva il rilascio di KDE 4.13 beta 1 nuova beta cioè prima beta del ramo 4.13 novità sostanziale è il passaggio da Nepomuk a Baloo per il desktop sematico il resto sono soltanto bug fix minori come per esempio per la suite KDE PIM con KMAG conveniente bella anche se non so quante persone utilizzano sinceramente KMAG KDE PIM in generale l'unico programma di KDE PIM che utilizzo è Aggregator il lettore di feed perché il resto preferisco leggere Webmail comunque passiamo adesso invece adesso alle guide che sono state pubblicate su Marcosbox la prima guida è quella che ho realizzato su Tanglu Tanglu viene rilasciata nella main edition con KDE la versione come browser predefinito monta Firefox peccato che non è patchato con le patch di OpenSUSE per l'integrazione di Mime Types e cose del genere ho realizzato una piccola guida altamente sperimentale perché non è tanto ortodosso come metodo quello che ho fatto pubblicato che vi consentirà appunto di sfruttare il repository di Firefox KDE di Kubuntu e di utilizzarlo di installarlo di aggiungerlo a Tanglu e quindi di poter utilizzarlo Firefox con le patch di OpenSUSE anche sul Tanglu l'unico l'unico probleme effettacolare come l'ho scritto è che praticamente vi cambia anche la denominazione del browser comunque se come me non potete fare almeno di di questa di questa di questa integrazione fateci un pensierino anche se lo so che molti di voi utilizzeranno Google Chrome che è Firefox non lo state utilizzando più come una volta direte voi lo vedo dalle statistiche del blog delle letture vediamo adesso l'altra guida è stata realizzata da Vincenzo come ti gnomizzo Firefox Vincenzo che cosa ha fatto? ha pubblicato una guida molto approfondita con una serie di estensioni temi e altre personalizzazioni per poter modificare l'aspetto di Firefox e farlo semigliare praticamente a Epifani il browser di gnome mettetevi lui inizia il post appunto con una immagine semplificativa di Firefox customizzato grazie a questa guida e dall'altra parte Epifani il browser di gnome come potete vedere dai risultati con queste modifiche il look praticamente diventa diventa uguale seguita se utilizzate gnome shell vi farà piacere avere un Firefox completamente integrato e in stile recensione della settimana è stata quella di Tangu io aspettavo molto questa distra l'aspettavo perché sono un fan di KDE l'aspettavo anche perché sono un utilizzatore dei distro abbastanza su Debian e ho deciso di provare questa nuova distribuzione che dire beh buona la prima buona la prima perché mi sono accorto che nonostante non sia tanto branding edge con ultime versioni KDE tricotucce comunque la distro si presenta bene è veloce l'apertura dei menu è semplice cioè è veloce appunto non ci sono non ci sono lag non ci sono cose cosa che non ho visto cosa che o meglio che è presente sull'altedistro che dire più di questa distribuzione offre comunque un KDE puro quindi non avrete l'integrazione di Firefox nell'ambiente di sistema LibreOffice non avrà l'integrazione di default con i menu quindi dovete fare a parte che dire nel reparto multimediale troviamo le solite applicazioni quindi WLC Dragon Player l'unico neo del reparto multimediale ad esempio è che Dragon Player è impostato come riproduttore multimediale predefinito per i file video avete messo WLC mettete WLC perché tra l'altro Dragon beh ditemi a me chi cavo lo utilizza sono rimasto sorpreso anche dalla presenza di tutti quanti i codec che alla fine utilizzate riproducete un video subito come finite di installare l'unica cosa che manca naturalmente è il flash player il font microsoft e la possibilità di gestire i file nel formato rare perché comunque sono formati proprietari quindi non hanno potuto inserirlo di default come appunto come vi dicevo la distro risponde bene il consumo di RAM non è elevato una bella distro se volete una distro basata su Debian con KDE relativamente recente stabile è solida è solida fateci un pensiero in ottangolo se non volete proprio utilizzare kubuntura fateci un pensiero in ottangolo l'unica cosa che forse vi potrebbe bloccare è l'installer che non è comunque immediato come quello di che è presente ad esempio sulle distro derivate da Ubuntu però comunque è un buon installer è abbastanza semplice da evitare non compiere dei casini diciamo così se siete utenti medi gli utenti delle prime armi potrebbe attraversare forse un pochettino Spice Up provate passiamo alle varie notizie quelle che non possono essere albubbate è partita la raccolta fondi per PTV PTV l'editor video cerca soldi cerca soldi perché perché gli sviluppatori hanno bisogno di denaro per dedicarsi al tempo pieno allo sviluppo di questo software in modo di fare una professione se apprezzate questo tipo di software fateci un pensierino e sganciare un po' di pecunia Stefano ha pubblicato poi un post intitolato GitHub Randomness mi pugnaleranno per la pronuncia dove praticamente fa vedere quello che riuscite a trovare navigando un po' su GitHub come cavolo volete pronunciare nella sua quotidiana ricerca di aggiornamenti e di brevare in che cose si è imbattuto andate a vedere non vi anticipo niente fatevi una lettura sempre Stefano ha pubblicato poi il suo consueto riassunto da un mondo di OpenStreetMap novità notizie importanti vediamo guarda vediamo ah le criptografie SSL su tutti i siti di OpenStreetMap c'è una discussione in corso lo studio della Croce Rossa ha sottolineato che la mappatura da remoto non può impiazzare la mappatura sul campo vabbè andate a vedere a leggere perché comunque sono notizie che possono interessare se siete andrati nel modo di OpenStreetMap perché da quello che leggo sono appunto tutte notizie per i appassionati vediamo un po' l'altro post ah questo sintriamano ha avuto modo di ospitare sulle pagine di Marcosbox Italo Vignoli per la seconda volta Italo Vignoli della Document Foundation uno dei diciamo così fondatori nel suo racconto Italo va ad analizzare la sua storia di utente di come l'ha portato a contribuire ai software libero e di quello che fa nella vita andate però a leggere che è molto interessante un posto lungo vero interessante altro post che non può essere chiuso in nessuna categoria è quello elementario S la distro come ben sapete ha una serie di bug che non vengono corretti da parecchio tempo diciamo così al momento il team dichiara di avere circa 2700 bug aperti che sono un'enormità anche se molti di quelli che ci sono presenti sono facili sono semplici da risolvere hanno pensato quindi di utilizzare un metodo per incentivare gli sviluppatori a trovare i bug e a correggere offrendo appunto del denaro hanno messo a disposizione 2030 dollari divisi su 80 bug quindi se siete programmatore e quant'altro e volete guadagnare qualche cosina cimentatevi e trovate i bug e correggete così guadagnate anche qualcosina non può fare addemmeno a molti di voi perché comunque questo tipo di display non sono molto diffusi però comunque in linux mint sta per arrivare il supporto ai display a hdpi che sarebbe quei retina con le risoluzioni quelle spaventosamente alte che appunto il 99% della popolazione non ha altra novità che dalla prossima versione di linux mint è che ci sarà un unico tool per la gestione della lingua language settings e sarà presente su tutte le note le note eccezione fatta per la versione con kdm che sarebbe ridondante passiamo adesso agli eventi come ben sapete al 8 apri cesserà il supporto al windows xp l'italian linux society ha realizzato un portale che dal titolo con linux puoi che serve ad aiutare la popolazione a sensibilizzare il pubblico italiano nella migrazione da windows xp a linux andate sul sito utilizzato anche come modo per diffondere il mondo linux le persone che hanno ancora windows xp che fa poco avvisatevi che non potranno più avere aggiornamenti microsoft purtroppo ha deciso che deve morire purtroppo purtroppo perché comunque molti programmi funzionano ancora su cui l'ambiente figurate per gli eventi nelle giornate del 28 29 e 30 marzo 2014 si svolgerà a palermo l'evento intitolato GNU linux meeting 2014 è organizzato da sputinix e associazioni utenti GNU linux in queste tre giornate ci saranno una serie di eventi dedicati appunto al mondo GNU linux e nella giornata del 29 marzo se non erro è sabato ci sarà come west star richard starman richard starman che terrà un incontro a titolo free software and your freedom quindi il software libro e la vostra libertà se siete in zona fateci un salto troverete anche fra l'altro il professor Antonio Cantaro nella giornata di sabato pomeriggio quindi un'altra personalità di spicco del mondo GNU linux italia che ha fatto tanto per diffondere appunto il sistema operativo linux in italia con le sue guide l'ultimo evento è quello di perugia ed è del 5 l'evento si intitola ti presento il software linux software libero scusate chiudete la finestra di windows xp questo evento è organizzato dal GNU linux user group di perugia in collaborazione con Libre Umbria e il centro di competenza sull'open source dell'umbria appunto sarà organizzato nella giornata di sabato 5 aprile e verrà appunto argomenti inerenti il passaggio da windows xp a un sistema operativo linux si facerà per si dipende dal dipartimento di matematica e informatica dell'università di studi perugia se siete in zona fateci un salto bene con questo ho concluso il video sarà venuto lunghissimo effettivamente sto guardando viene 24 minuti e 31 mi odierete per questo e di sicuro non lo vedete tutto quanto vale mi scuso con voi per la pausa e anche per questo video schifosamente lungo ci vediamo la prossima settimana con gli appuntamenti regolari ogni settimana quindi con meno argomenti il video più brevi che vi piacciono tanto con il solito riassunto riassunto scritto lunga vita e prosperità a tutti quanti condividete il video se potete fate diffondere il verbo aiutate marcos box a crescere ciao ciao